La cura, la libertà e la vita, tra pandemia e rinascita. Per la prima volta Tg1 Dialogo mette a confronto due fondazioni che con sensibilità diverse sono accomunate da una passione, la vicinanza alle donne e alla loro libertà di fronte a scelte drammatiche. È la prova che quando c'è la volontà si può dialogare nella speranza, evitando fondamentalismi, ideologismi e soprattutto una visione catastrofica e distruttiva della storia che impedisce la collaborazione per la tutele e la promozione della maternità in un'Italia sempre più vecchia. Continuano a diminuire i nati mentre aumenta l'età media in cui si diventa madri oggi oltre 31 anni. Ma dopo l'inverno c'è la primavera. In Italia le nascite sono calate e il futuro è in pericolo. Prendiamo questa preoccupazione e cerchiamo che questo inverno demografico finisca e fiorisca una nuova primavera di bambini e bambine. Buongiorno, compadre Enzo collegato da Assisi, lo vedete nella redazione della rivista San Francesco. Oggi vogliamo parlare della cura, della libertà e della vita e della responsabilità a cui siamo chiamati in modo speciale in questo lungo, difficile e drammatico tempo della pandemia. Siamo collegati con Cosenza, chiesa di San Francesco d'Assisi, con i responsabili della fondazione Il Cuore in una Goccia, Giuseppe Noia, Anna Luisa Lateano e Angela Bozzo, collegata da Roma Livia Turco, presidente della fondazione Nilde Iotti. Ma prima vediamo questa storia. La nostra storia inizia a marzo del 2011 quando scopro di essere incinta ed è una gravidanza gemellare. Tutto procede bene fino a quando arriviamo a giugno, quando in un semplice controllo di routine il mio ginecologo ci dice che una delle nostre bambine è affetta da idrocefalia. Allora decidiamo liberamente di andare a Roma presso l'ospedale Gemelli per farci curare. Alla nascita Agnese avrebbe dovuto subire l'intervento. A novembre le bambine nascono e Agnese viene subito portata in sala operatoria per l'intervento. Man mano che facevamo i controlli, Agnese comunque stupiva sempre i medici. Oggi le nostre figlie Agnese e Giorgia hanno nove anni. Sono due bambine splendide e Agnese è una bambina sana, non presenta nessun deficit e fa tutto, si comporta come la sorella Giorgia. Padrenzo, in che modo la pandemia ci sta facendo rileggere il valore della vita? Abbiamo bisogno di nutrirci di quello che ci manca. Io penso alla logica degli abbracci, alla logica delle persone che il Signore ha chiamato a sé o ancora alla mancanza di libertà. E allora la pandemia, la crisi, la sofferenza diventano anche una grande lezione di vita. Abbiamo bisogno di una visione di uomo, abbiamo bisogno di un impegno dell'uomo e abbiamo bisogno dell'azione concreta dell'uomo con un nuovo stile di vita. Questa diventa credo la grande lezione della vita in un momento in cui questa vita ci viene torta, vite che vengono strappate. Andiamo adesso a Cosenza. Angela Bozzo, Fondazione Il Cuore in una Goccia. In che modo anche spiritualmente la Fondazione ha deciso di condividere il dolore e la storia di donne, di coppie, di famiglie? La Fondazione Il Cuore in una Goccia, per quanto riguarda la sua missione, è centrata sulla preghiera, sull'accompagnamento e sulla custodia della vita. Ogni volta che incontriamo persone, donne, madri, che si sono sentite veramente sole, abbandonate, e questo è una cosa che noi abbiamo potuto vedere in tanti anni. Ecco, la preghiera si fa prossimo, abbraccia il dolore, lo condivide, dando speranza, dando amore. Noi come Fondazione abbiamo imparato ad accogliere tutti, non facciamo distinzione nell'accogliere tutti. Noi diciamo sempre, noi ci siamo, prima, durante e dopo. Livia Turco, Fondazione Nilde Jotti. In questo dialogo sulla cura, sulla libertà e sulla vita, quali sono gli obiettivi della Fondazione Nilde Jotti per la promozione dei diritti delle donne? La nostra è la cura della politica, partendo proprio dall'esempio di Nilde Jotti, la sua grande eredità. La sua eredità è l'eleganza della politica, è la politica del bene comune, è la politica colta, è la politica del popolo. Trasmettiamo il messaggio della bella politica facendo conoscere l'importanza delle leggi che hanno avuto le donne come protagoniste che devono essere applicate. Quindi è un lavoro finalizzato alla formazione, andando nelle scuole, nei territori. Io credo che questo tempo di pandemia abbia bisogno di una politica rigenerata, di una politica che ritrovi veramente la sua missione, prendersi cura delle persone. Padre Enzo, lunedì scorso la giornata per le vittime della tratta, due giorni fa la giornata mondiale del malato, domenica scorsa la Chiesa ha promosso la 43esima giornata della vita. In che modo secondo te la cultura della cura, dolorosamente riscoperta con la pandemia, può promuovere la vita e liberarla anche dal giudizio degli altri? Sono due infermieri che mi hanno scritto, sono tantissime le lettere che riceviamo alla rivista San Francesco e dice così, senti, siamo Maurizio e Milena, due infermieri promessi sposi della Lombardia. Dovevamo sposarci a giugno dell'anno scorso, ma la pandemia non l'ha permesso. Io in un ospedale e Milena, la mia compagna in una RSA, abbiamo da un anno in qua visto di partire tantissime persone, anziani, giovani, nonne e mamme. Anche noi qui all'inizio ci siamo chiesti dov'era Dio, poi pian piano l'abbiamo capito. Dio era nelle mie mani, sotto tre paia di guanti che accarezzavano il morente. Dio era nei miei occhi, che erano gli ultimi che la persona sofferente ha visto sotto una visiera una maschera. Dio era accanto a me quando sotto una tuta, sudato, affaticato, segnato, ero l'unico conforto per chi se ne andava solo, senza nessun parente, nessun amato, che gli stava accanto. Dio era nei sorrisi, che riuscivamo a strappare quando disegnavamo i fumetti sulla tuta, giusto per portare un po' di allegria in quel mondo fatto di monitor, di bip, di tristezza, di morte. Non pensiamo che questi morti siano stati volontà di Dio, ma sicuramente c'è stato il suo zampino quando abbiamo trovato il coraggio, la forza d'animo e l'umiltà per affrontare questa pandemia dal nostro punto di vista. E quel punto di vista era prendersi cura. Andiamo ancora a Cosenza, nella bellissima chiesa di San Francesco d'Assisi. Anna Luisa Lateano e Giuseppe Noia. In che cosa consistono le attività di servizio sociale e medico scientifico della Fondazione Il Cuore in una Goccia? La Fondazione Il Cuore in una Goccia nasce proprio come risposta a tutta una serie di carenze, di criticità sotto il profilo sociale, medico scientifico ed anche umano, di fronte alle richieste di aiuto di tante donne e di tante famiglie che si trovano ad affrontare una gravidanza con diagnosi patologica del feto e non trovano punti di riferimento certi. Il Cuore in una Goccia offre un servizio di informazione, di affiancamento, di supporto medico, psicologico, economico, ma soprattutto offre vicinanza, calore umano e condivisione. Diamo alle donne gli strumenti necessari per poter effettuare scelte profondamente libere e consapevoli. Il servizio che la Fondazione Il Cuore in una Goccia propone sul piano medico scientifico è quello di offrire una scienza prenatale che possa abbracciare la solitudine, la desolazione di queste famiglie con diagnosi prenatale patologica. Grandi spazi di ascolto e di accoglienza, risposte diagnostiche rigorose, prognosi credibili e fondate sull'evidenza scientifica e proposte di cure prenatali, ecoguidate, invasive e non invasive, che possono anche dare possibilità di trattamenti prenatali, palliativi al feto per lenire il suo dolore, ma senza mai sconfinare nell'accadimento terapeutico. Livia Turco, Fondazione Nilde Jotti, come commenta questa solidarietà nei confronti delle donne che possono trovarsi di fronte a scelte drammatiche vivendo una gravidanza difficile? Il mio sentimento è di gratitudine e di ammirazione perché ho sentito parole di grande rispetto delle donne, oltre che di aiuto, sostegno nei suoi vari aspetti. E nello stesso tempo devo anche ricordare le donne che vivono il dramma dell'aborto. L'aborto è sempre un dramma, uno scacco per ogni donna. Per questo è giusto il principio della libertà di scelta. Questo è scritto in una legge importante, la legge 194, che non a caso ha visto da quando è stata approvata una drastica riduzione del ricorso all'aborto. Perché quel principio, la scelta, è un principio etico e quello che mi auguro è che ci sia sempre e comunque, per qualunque scelta, la vicinanza, il supporto, il sostegno. E questo supporto, questo sostegno, questa vicinanza deve venire prima di tutto dal servizio sanitario pubblico, universalistico, solidale, che deve avere come obiettivo quello di combattere l'aborto clandestino e quindi prendere in carico le donne, aiutarle. Mentre oggi noi vediamo troppe volte grandi fatiche. A me piace pensare all'idea di una società materna, cioè una società in cui i valori della cura, della vita, dei figli, diventano valori condivisi e valori di tutta la società, che informano le scelte pubbliche oltre che i comportamenti privati. Padrenzo, nel corpo a corpo con il virus, la vita ci appare così com'è. Non un discorso, un tema, ma un fatto che si impone, ha scritto Francesco Ogni bene su Avvenire. Questo in che modo, secondo te, può evitare tutti quegli ideologismi che hanno segnato spesso le battaglie per la vita? Ma intanto io direi, permettimi di usare un titolo di un testo che avevo letto alcuni anni fa, Cerco fatti di Vangelo. Ama il prossimo tuo come te stesso o ancora in positivo fai agli altri quello che vuoi sia fatto a te. Io credo che se noi entrassimo nella logica di questo cammino e ci lasciare interrogare, noi capiremo come davvero superare gli ideologismi lungo le strade della vita in maniera arricchente e in maniera sorprendente. Potete rivedere la puntata su tg1.rai.it, su Raiplay e sui social. Enzo. E a proposito dei social rimando sulla mia pagina Facebook, Padre Enzo Fortunato. continuate a scriverci, a scrivermi e le vostre riflessioni poi sono oggetto del nostro cammino con tg1 dialogo. E ancora ricordo stasera, sempre sulla mia pagina, ci vediamo alle 21 con buonasera brava gente. E non ci resta che salutare i nostri amici con il pace e bene nella lingua dei segni. Pace e bene. E bene cari amici. Grazie a tutti, arrivederci.